Saluto tutte le autorità, il procuratore della Repubblica, il dottor Fragliasso, il dottor Filipelli che sono qui non solo in veste di autorità giudiziarie ma anche per la collaborazione che abbiamo da alcuni anni con la procura per i lavori di contrasto agli scavi clandestini nel territorio di Pompei e nella mostra vedremo appunto alcuni risultati di questo lavoro di ricerca. Saluto anche la direttrice del De Manio, la dottoressa del Bernio dell'agenzia del De Manio e gli altri colleghi dell'agenzia.